Ben ritrovati, oggi si parte subito con il codice. Create un progetto, assicuratevi che sia compatibile con la versione 11 del C++ ed inserite subito gli include per queste due librerie, thread, e direi fin da subito anche crono, perché ci servirà a fare alcune misurazioni di tempo, tipicamente per confrontare le prestazioni di uno schema sequenziale rispetto ad uno parallelo, o di uno parallelo con altri modificando il numero dei thread. Nel primo esempio è ovvio, l'attenzione sarà soprattutto sull'aspetto tecnico, cioè sintattico, di come organizzare il main e il thread, lasciando non del tutto, ma un pochino in secondo piano, l'aspetto dell'utilità. Ma vedrete che la recupereremo molto velocemente. Aggiungiamo una funzioncina che ha l'unico scopo di mettere un pochino sotto stress il processore e alla quale potremo chiedere, per questo, di estrarre un certo numero di volte, un numero casuale. Neanche lo utilizzo, vedete, chiamo il volo, rend, non memorizzo il risultato, però effettivamente rend andrà a consumare un po' di tempo macchina. Nel main andremo a generare parecchi numeri casuali, prima senza usare alcun thread e poi con uno o più thread. Vi ricordo che in realtà, quando il nostro programma viene messo in esecuzione e diventa un processo, automaticamente gli viene associato anche un primo thread principale, che è quello che va ad eseguire il main. Per essere comodi, utilizziamo qua una costante, magari regolatela in base alla potenza del vostro processore, cioè troppo lento, diminuita, insomma, e viceversa. Quanti è il numero che passeremo alla funzione estrai? Facciamolo per il momento senza pensare ai thread. L'esecuzione mi conferma che le 400 milioni di estrazioni hanno impegnato il processore per circa 5 secondi e mezzo, però questo dato ci viene fornito solo alla fine. Prendiamoci il controllo, impariamo a prendere i tempi prima e dopo un certo momento di esecuzione del programma. Ci servirà spesso. Come se fosse un cronometro. Start appena prima di chiamare la funzione estrai e stop appena dopo. Sfruttiamo una comoda caratteristica del C++11, e cioè la deduzione automatica, è sicura, il tranquillizzo dei tipi, così da non doverci ricordare lunghi e strani nomi complicati in inglese, come capita con i nomi delle classi, che è un po' quello che capiterebbe ora richiamando la funzione now, che ci dà il momento in cui ci trova, secondo uno degli orologi di sistema a diversa risoluzione, qui potremo accedere. Crono, questo è il namespace, e accedendo al clock ad alta risoluzione, al timer ad alta risoluzione, metodo funzione, insomma, now, Sì, qui parlando ho dimenticato l'uguale, l'assegnamento. Poi un copy and call banale. Fine. Attenzione che a seconda del compilatore che si sta utilizzando, può essere che qua davanti ci dovete mettere std, però con questo siamo a posto, che poi molti lo considerano anche a livello di main, una cattiva pratica, è un altro paio di maniche. Crono è un namespace, quindi andiamo a scavare il suo interno, troviamo la classe high resolution clock, e lo dico giusto solo per chi mastica un pochino di op, stiamo richiamando, evidentemente non avendo creato prima un oggetto di quella classe, stiamo facendo riferimento a un metodo statico, cioè di quelli che sono subito disponibili, semplicemente richiamandoli sul nome della classe stessa, metodo funzione now. Ora andiamo a calcolarci la differenza, che però come tipo di dato è un po' particolare, utilizzato per la rappresentazione degli intervalli temporali. Dobbiamo tradurlo con un cast, con una forzatura di tipo, in un qualcosa di noi più facilmente comprensibile, direi in millisecondi vanno benissimo. Calcoliamo quindi la differenza in millisecondi. Il risultato ce lo smazziamo sempre con un auto, pescando sempre dal namespace e crono, per usare questa funzione di servizio, metodo di servizio, duration cast, è quella che fa la trasformazione, è una funzione parametrica. Spiego un minimo, poi chi vuole si vada a vedere la parte sui template della playlist, sul C++11. Mi permetto di farlo, scusandomi con chi è già un po' più avanzato, perché poi in continuazione andremo a fare questi calcoli. Parametrica significa che al momento di una chiamata di questa funzione, tra parentesi angolari, potrà essere specificato un tipo che non poteva essere noto al momento della scrittura della funzione parametrica, perché lo decide l'utente, come stiamo facendo noi in questo istante. Allora il programmatore, a suo tempo nel codice, avrà indicato una specie di segna a posto, un modello, un qualcosa che poi già sapeva che sarebbe stato sostituito da questo, nel nostro caso, crono millisecond. Il bello è che il programmatore ha scritto una sola versione della duration cast. Ci penso poi al compilatore a generare tutte le diverse, a seconda del tipo che noi andremo a indicare nelle chiamate effettive. Duration cast di per sé restituisce un oggetto, che è qualcosa di più di un semplice valore numerico o stringa, lo dico per chi non mastica OP. Un oggetto può contenere dei valori, ma anche dei comandi da eseguire su quell'oggetto. Quello che stiamo usando qua è il count. Questo comando estrae dall'oggetto restituito dalla duration cast, che è una durata temporale, un valore che rappresenta i millisecondi di quell'intervallo, che è quello che volevamo. Proviamo, non vorrei aver commesso qualche errore, ci aspettiamo chiaramente un valore simile a quello che poi stamperà in automatico il programma alla sua terminazione. Ok, durata algoritmo sequenziale 5.322 millisecondi, del tutto comparabile con questo 5.3 secondi, 5.371 millisecondi. È arrivato il momento di far entrare in gioco i thread, quali aggiuntivi. Lo faremo qui come prima istruzione del main, con l'idea che se funziona andranno poi in parallelo, perché se creassimo il thread qua alla fine del main, è ovvio che prima terminerebbe il main e sequenzialmente partirebbe il thread. Scelta davvero stupida. Mettiamoci quindi qui. Thread è una classe, ma non preoccupatevi se non avete confidenza con l'op. Considerate il nome della classe come se fosse il nome di un tipo standard, come int, double. La variabile, che dovremmo chiamare più propriamente oggetto, viene istanziata utilizzando i valori di questa lista chiamata lista di inizializzazione, che sono poi di fatto i parametri passati al cosiddetto costruttore della classe. In pratica viene costruito l'oggetto t1 di classe thread utilizzando come parametri in partenza il nome della funzione, che sarà poi eseguita dal thread, e a seguire i parametri con cui chiamare la funzione stessa. Quindi il thread ha la sua partenza, invocherà la funzione STRI, e le passerà lo stesso valore di quanti, che però un attimo dobbiamo mettere prima, altrimenti ovviamente non ci siamo. Sistemiamo adesso le cose per un doppio cronometraggio, e d'occhio non commettere una prima ingenuità. Dai, sperimentiamola insieme. E cioè replicare pedisticamente lo schema, mettendo una misurazione prima del thread, una dopo e poi la stampa. Il codice potrebbe essere questo. Attenzione, la prima volta che viene introdotta la variabile ci va l'auto, ma poi questa, inizio, fine, int, ms, sono di fatto variabili già dichiarate. Rutilizzandole per cronometrare in main, non dobbiamo ridichiararle, semplicemente assegnare un nuovo valore. Riuscite ad anticipare quello che accadrà? Parto. Immediatamente sembra che il thread abbia completato le operazioni in tempo praticamente zero. E poi l'algoritmo sequenziale, come prima, impiega il suo tempo. Ma questo messaggio ci fa capire che qualcosa è comunque andato storto. Inoltre, il processo principale non restituisce zero, cioè tutto ok, ma un codice d'errore, tre. Questa è un'eccezione non gestita, eh? Terminazione forzata, senza che sia stata gestita la corrispondente situazione anomala. Eccezione. Qual è il problema? Abbiamo detto che da qui i flussi diventano due. Parte il thread con l'esecuzione della sua copia della funzione STRI, ma il main va avanti, per cui andrebbe a prendere subito di nuovo il now. Zero millisecondi, ha lo stesso valore letto qua. È comunque una prova indiretta del parallelismo, è interessante. E questo viene calcolato. E zero ce lo conferma come valore stampato. Poi il main va avanti, lui sì che si cronometra correttamente, e la stampa ce lo conferma, di nuovo. Ma quando il main termina, come penso diversi tra voi sanno, come ogni funzione comunque, causa la distruzione dei suoi oggetti variabili temporanei locali, compreso questo T1. Tecnicamente viene invocato il distruttore della classe thread, che fa un controllo che trova violata a una condizione ineludibile, che è questa. O il thread figlio creato viene separato, poi vediamo un esempio, da quello principale, da quello del main, in questo caso, e allora i destini dei due thread sono davvero indipendenti. Può finire prima il main, può finire prima il thread, non è un problema. Non è un problema nel senso che non va in crash il programma, non viene sollevato all'eccezione. Ma non è detto che i risultati ottenuti siano quelli desiderati, non lo si può fare a capocchia. Finisse ad esempio prima il main, può essere che il thread secondario non abbia ancora completato le sue 400 milioni di estrazioni, ma verrebbe bruscamente distrutto insieme al thread principale. Questo invece in altre situazioni potrebbe non creare alcun problema, tipo un thread che sta in ascolto per connessioni in arrivo in un server web, ok, viene chiuso il server web stesso come programma, viene ucciso anche quel processo. Ci sta, non accade nulla di strano. Non sarebbe più nessun thread in ascolto, ma è giusto che sia così, no? Tutto sommato. Comunque, così poi procediamo. Nella nostra situazione non ci sta bene separare il thread secondario. Vogliamo avere la certezza che termini. E allora organizzeremo il tutto in modo che quello principale, pur finite le sue operazioni, aspetti la terminazione di quello secondario. Avete visto un codice che sembrava innocuo, contiene due gravi errori. Beh, il primo è molto semplice da rimediare. Basta spostare il cronometraggio dal main al thread stesso. È una delle possibili soluzioni. Tolgo di qui. A questo punto anche questo. E passando un secondo parametro alla funzione per determinare se extrai è stata invocata dal main oppure è gestita dal thread, possiamo eliminare questa parte qua. Beh dai, tutto sommato il main diventa molto più snello. Quindi qui diciamo la funzione guarda che ti sto affidando al thread e qui guarda che ti ha chiamato il main string key durata algoritmo key o tutto sommato è decisamente più leggibile il main deve terminare per ultimo per cui dopo la sua ultima istruzione bisogna sincronizzarsi col thread questo t1.join mette in pausa il main e chi ha seguito la playlist sul sistema operativi sa cosa significa intimamente cioè non è che la cpu rimanga inutilizzata è assegnata questo thread no no il thread viene spostato una lista dei thread in attesa per segnalazioni la cpu data un altro e sarà risvegliato e gli verrà magari non subito riassegnata ancora la cpu per poter procedere dopo che il thread con cui si è congiunto avrà segnalato io ho terminato aggiungo subito che non è l'unica situazione cioè non è che per forza il join debba essere fatto come ultima istruzione per quello che volevamo fare noi è giusto che sia messo qui siamo pronti adesso se è vero che le due istanze di estrai verranno eseguite in parallelo a fare il doppio delle estrazioni 400 milioni il main e 400 milioni il thread dovrebbero metterci più o meno lo stesso tempo impiegato prima dal main da solo per cui il doppio delle istruzioni nello stesso tempo proviamo perfetto signori avete appena raddoppiato le prestazioni di un programma a costo quasi zero il timer del thread segna 5500 millisecondi quasi identico con il del main ma soprattutto il tempo totale è ancora quello comincio a diventare ingordo via spariamoci altri thread provo con altri tre thread e qui si servono altrettante join start bellissimo il risultato soprattutto per questo thread 3 che finisce per primo vedete se non usiamo tecniche particolari per sincronizzare i thread in generale è veramente se non impossibile determinare l'ordine con cui verranno schedulati dal sistema operativo probabilmente qualcosa è successo durante l'esecuzione del thread 1 qualche interrupt che l'ha messo in pausa e semplicemente per il 2 mentre nulla ha disturbato il 3 che magari avrà potuto consumare tranquillo tutto il suo time slice terminando per primo ma comunque dopo il main tutti vedete hanno impiegato più o meno lo stesso tempo ma un po' di più di prima perché più thread ci sono più interferenze ci sono più cose possono capitare ma globalmente ci abbiamo ancora guadagnato perché con solo 2 secondi in più circa il circa non mi piace proviamo ad eseguire senza thread soltanto il main quanto ci mette 5300 qui una seconda volta come conferma anche perché mi piacerebbe vedere che bagari l'ordine di terminazione di nuovo cambia eh visto thread 2 addirittura prima del main fantastico poi gli altri quindi con solo il 40% in più del tempo abbiamo quintuplicato le prestazioni ve lo dico in un altro modo se non ho sbagliato a fare i calcoli nel primo caso con un thread solo il main è basta il throughput cioè l'output brutale del processo come numero di estrazione al secondo era pari a 75 milioni usando altri 4 thread siamo arrivati a 267 invece di 75 267 milioni di estrazioni al secondo non male dovrebbe essere un incremento del 360% ci sta un wow non è per niente scontato sono calcoli davvero difficili bisogna conoscere alla perfezione lo stato medio della macchina come carico di processi le caratteristiche di quel processore e di come quel sistema operativo schedula i thread anche stando all'interno della stessa famiglia windows con windows windows server da priorità a certe cose che non sono le stesse del windows home o windows pro diverso ancora l'algoritmo abbiamo accennato solo accennato però nella playlist dei operativi linux ne ha un altro ancora mac os pure per cui non vi so dire come cambiano le cose portando a 20 il numero di thread certo esagerando a buon senso si capisce che con troppi più thread rispetto ai processori fisici e ai core e alle unità di threading si incomincia a introdurre forse più overhead del guadagno che si ottiene insomma ogni programma merita una sua analisi che è anche il bello interessante anche con le dovute pinze perché è ballerino comunque di suo il carico della CPU 10 14 20 ma proviamo a vedere cosa succede ho commentato ancora i thread lanciando solo il main e poi con i 4 thread insieme circa il 30% è arrivato 30 32% di carico provo un'altra volta 25 una terza che forse la prima volta c'era di mezzo anche il compilatore che andava 26 27 26 insomma 25 e 26 poi riproviamo perché la prima volta c'è di mezzo la compilazione riattiviamo i thread 81% e beh insomma il salto è davvero netto proviamo adesso senza compilazione sta salendo 78 76 un po' di meno come anche console main però nettamente di più ok siamo arrivati a una percentuale di utilizzo più soddisfacente del nostro sistema direi di finire qui il video facciamoci sapere ricerpocamente non so io ho un 2 core con 2 thread in più questo risultato con 4 thread in più quest'altro mettendo 8 è successo quest'altro cosa ancora io ho un octa core beato lui io ho un solo core che succede ho beneficio e fino a che punto non utilizzo le thread suggerimento per modificare facilmente il numero dei thread per le prove potete anche gestire un array di thread o per chi sa usare la stl per la parte dei container c'è una bellissima anche per questo un vector di thread già ma il vector poi con i suoi meccanismi interni farà dei casini se come oggetti si troverà a gestire dei thread oppure no e forse a qualcuno si è accesa la lampadina di quando si va sul classico cppreference o c++.com e nella descrizione delle varie classi e dei metodi si legge quella fantomatica frase thread safe oppure data race nessuna oppure c'è il rischio ne parleremo più avanti a risentirci 4 7 8 13